Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando del vasto incendio che ieri, lo ricorderete, era divampato in località Latrove nel comune di Laterina, Pergine e Valdarno. È stato spento nella notte. Ci sono volute ore per domare il vasto rogo che ha interessato una quellina boscata in località Latrove nel comune di Laterina, Pergine e Valdarno. L'incendio è stato spento solamente nella notte tra giovedì e venerdì. Le fiamme erano divampate in mattinata e alimentate dal forte vento erano proseguite per tutta la giornata. A fuoco complessivamente circa 30 ettari di bosco, il fronte del rogo è stato lungo sino a 300 metri. Molto stretto però molto lungo. Il crinale ha preso qui dalla strada, è rimasto molto limitato come ampiezza, però ha camminato molto in fase di lunghezza. In volo anche tre elicotteri della regione toscana, cui in serata si erano aggiunti anche i Canadair. Gli sganci d'acqua hanno evitato che il fuoco si avvicinasse ad alcune abitazioni della zona. 30 le squadre impegnate sul fronte dell'incendio, vigili del fuoco, unione dei comuni del Prattomagno e volontari dell'antincendio boschivo della regione toscana. A rendere ancora più complesse le operazioni di spegnimento, la distanza dal luogo di approvvigionamento dell'acqua da parte dei mezzi aerei, i rifornimenti nel lago Trasimeno. Domate in rogo, nella nottata sono poi proseguite le operazioni di bonifica. Ancora un atto vandalico nei confronti della chiesa di Badia Prataglia, l'antichissimo edificio dedicato a Santa Maria Assunta e ciò che rimane della abbazia fondata nell'anno 1000 è all'interno del parco delle foreste casentinesi, proprio nel cuore della frazione del comune di Poppi. Lo spazio antistante edificio è stato preso di mira dai vandali a pochi giorni dalla conclusione di un lavoro di sistemazione. Denunciare quanto era accaduto è stata proprio l'amministrazione comunale. Nella giornata di giovedì 3 agosto la catenella appunto da poco ripristinata che chiudeva l'accesso all'aria è stata trovata di nuovo rotta con i resti sparsi nella piazzetta. Al via il secondo fine settimana di grandi partenze per l'esodo estivo con spostamenti di breve o lunga percorrenza. La viabilità ovviamente in questo caso è davvero da bollino nero, a meno nella mattinata di domani, sabato 5 agosto. Bollino rosso ancora per la giornata di domani e l'intera giornata di domenica 6 agosto. In Toscana le principali direttrici in gestione ANAS maggiormente interessate appunto dall'incremento del traffico sono la strada statale 1 via Aurelia, la strada statale 223 di Paganico tra Siena e Grosseto e il raccordo autostradale Siena-Firenze. Ancora sarà un fine settimana di esodo estivo ma ancora caratterizzato da queste perturbazioni che già hanno toccato il territorio toscano e anche a retino in questa prima giornata di venerdì. Per la giornata di domani 5 agosto la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso di nuovo un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico. Adesso parliamo invece dell'accoglienza migranti, sono 17 i sindaci che hanno scritto una lettera esprimendo tutte le loro preoccupazioni. È chiaro che la tendopoli sarebbe veramente l'estrema razio a cui nessuno vuole assolutamente arrivare, però è anche vero che noi siamo servitori dello Stato ma non siamo servi. E quindi quando ci sono delle questioni che così come ci vengono proposte dallo Stato e dal Governo non sono sostenibili noi dobbiamo farlo presente. 17 sindaci della provincia di Arezzo hanno così messo nero su bianco le preoccupazioni sul sistema di accoglienza migranti. Lo hanno fatto a pochi giorni dall'ultimo vertice in prefettura nel quale era stato lanciato un appello alle amministrazioni locali sulla disponibilità di individuare strutture per ospitare richiedenti asilo in vista di nuovi arrivi. Qui non è una questione di fare cortesie anche se chiaramente la dignità dell'accoglienza fa parte dei doveri istituzionali dello Stato e di tutta la rete istituzionale e quindi deve essere svolta in un certo modo, ma c'è anche una preoccupazione reale rispetto al fatto che questa diminuzione dei servizi che vengono erogati agli ospiti che sono sul nostro territorio possa generare delle problematiche sociali nei territori perché è chiaro che a delle persone a cui vengono somministrati solamente bitto e alloggio poi rischiano di verificarsi anche delle problematiche relative alla gestione, alla quotidianità sui territori, magari anche territori marginali dove i servizi sono già molto pochi. Adesso la nota bi-partisan firmata da primi cittadini di centrodestra, centrosinistra e civici. Noi possiamo metterci a disposizione, fornire una leale collaborazione istituzionale come è il nostro dovere, come abbiamo sempre fatto, ma dobbiamo anche essere messi in condizione di poter fornire la migliore permanenza sia alle persone che vengono sul territorio sia alle nostre comunità. La sindaca di Talla già lo scorso luglio aveva sottolineato alcune storture mettendo in luci i paradossi dell'attuale sistema dedicato ai richiedenti protezione internazionale. Io sono presidente di una unione dei comuni che gestisce un SAI, uno dei tre SAI della provincia di Arezzo, quello con il maggior numero di posti, ben 65. Al momento noi per esempio abbiamo sei posti liberi che potrebbero essere disponibili per l'accoglienza ma che dal decreto, dall'allora decreto Salvini in poi, che nessuno poi ha più rimesso le mani, non sono utilizzabili per richiedenti asilo ma solamente per chi ha già la titolarità. Sono oltre 51 milioni gli interventi in provincia di Arezzo che rischiano il mancato finanziamento a seguito della riforma del PNRR voluta dal governo Meloni su questo tema che abbiamo già toccato nelle trascorse edizioni del nostro telegiornale. Oggi interviene Tommaso Pierazzi, coordinatore del Movimento 5 Stelle del territorio aretino che pone l'accento sulle opere che, a suo dire, potrebbero saltare in Valdarno. Tra queste la riqualificazione di un'area sportiva e di una scuola. Opere per le quali l'iter è già iniziato e i comuni avevano già assunto impegni di spesa, dice Pierazzi, che adesso rischiano di dover trovare coperture alternative con evidenti conseguenze sulla tenuta contabile, afferma ancora Pierazzi, appunto, degli enti stessi. Adesso invece parliamo di un caso del quale ci siamo occupati spesso, ovvero la realizzazione della bretella della E78, lo ricorderete, che interessava sia cittadini che imprese per via della questione degli espropri. Ebbene, le osservazioni sono state ritenute inammissibili dal Ministero e allora sul caso interviene il consigliere comunale di Scelgo Arezzo, Marco Donati. Il Ministero ha deciso di rigettare più di 900 osservazioni promosse da altrettanti cittadini di questo territorio, cittadini, imprenditori, famiglie, che avevano richiesto una valutazione di impatto ambientale. Sarebbe stato giusto forse lasciare spazio alla partecipazione e se c'era un trattacciato alternativo che avrebbe comportato minori disagi, forse era il caso di tenere in considerazione. Non ci sarà nessuna valutazione di impatto ambientale per il progetto delle due bretelle necessarie per la costruzione del tratto aretino della Due Mari, come invece speravano i cittadini che si erano costituiti in comitato. A deciderlo è stato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica acquisito il parere della Commissione Tecnica di Verifica, non rilevando impatti ambientali significativi o peggiorativi. Non si è mai parlato di stop alla Due Mari, semmai si parla di un tracciato alternativo di due strade di collegamento che invece impatterebbero in maniera particolare su alcune frazioni, ricordo Olmo, Sanzeno, Lepoggiola, Chiani. E questa infrastruttura potrebbe essere, se riconsiderata, pensata in un'altra zona e quindi con un impatto diverso. Quindi questa fretta, dopo tanti anni di attesa, rischia solo di comportare forti disagi e a questo punto forse è il caso che il Comune di Arezzo intervenga in maniera più decisa di quanto ha fatto sino ad oggi. I consiglieri comunali di Scioguarezzo sottolineano così la necessità di un ricorso al TAR. Può arrivare anche a un ricorso di questo tipo che forse potrebbe consentire anche al Ministero di riconsiderare questo intervento o pensandolo meno impattante in zone diverse da quelle in cui sono state considerate. Parliamo ancora di lavoro perché ci sono prospettive importanti per i lavoratori della IWV, la storica vetreria del Valdarno, che sono attualmente in cassa integrazione straordinaria. Nuove opportunità per i 40 lavoratori della IWV, la storica vetreria del Valdarno, attualmente in cassa integrazione straordinaria. È stato sottoscritto un accordo tra la Regione Toscana, Arti, l'Agenzia regionale Toscana per l'impiego, IWV, FICTEM, CGL e Lega Copp. Attualmente la IWV è in liquidazione coatta amministrativa e i dipendenti appunto sono in cassa integrazione straordinaria per cessazione dell'attività. La formazione sarà un'opportunità per la ricollocazione lavorativa all'interno della storica vetreria per la cui ripresa stanno lavorando i sindacati. L'accordo affida ad Arti il compito di individuare gli interessi formativi e professionali dei lavoratori, l'organizzazione di un colloquio individuale per valorizzare le competenze, la definizione di un curriculum e l'aggiornamento delle competenze professionali con formazione a distanza oppure con opportunità formativa disponibile sul territorio. Riparte pronto badante il progetto che offre un aiuto rivolto alle persone ultra 65 anni residenti in Toscana che si trovano per la prima volta ad affrontare una situazione di fragilità o disagio. Non hanno ancora un progetto di assistenza personalizzato con interventi già attivati dai servizi sociosanitari territoriali. Dal mese di luglio 2023 la zona distretto a Retina ha individuato tramite una manifestazione di interesse la cooperativa sociale Progetto 5, quale partner del terzo settore a cui sarà affidato il servizio tramite la sottoscrizione di una convenzione triennale. Il numero unico regionale poi da chiamare sarà lo 055 43 83 000 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e 30. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo al mare anche se solo con le nostre telecamere vi portiamo appunto nella Costa d'Argento. Sentiamo perché con il prossimo servizio. A pochi giorni dall'evento più atteso dalla Costa d'Argento a Porto Santo Stefano è tornato il palietto sfida dei quattro rioni verso il palio numero 80 che si terrà il 15 di agosto. Sarà allora che Croce, Fortezza, Pilarella e Valle si contenderanno il palio realizzato da Luigina Loffredo. Il palietto invece è la gara remiera delle risorse più giovani under 23 dei quattro rioni. La gara è stata preceduta dalla sfilata a cui hanno partecipato il capitano del palio Emilio Sclano il delegato del sindaco Giovanni Loffredo i dirigenti dei rioni, gli equipaggi, le madrine e i portabandiera. Alle 19 nello stadio di Turchese la regata ha un percorso di 2400 metri suddiviso in sei tratte. È stata una gara combattuta tra il rione della Pilarella e quello della Croce ma alla fine a trionfare sono stati i colori bianco, rosso e blu con il guzzo scirocco. Il rione Pilarella si porta a casa il trofeo d'argento per la seconda vittoria consecutiva messo in palio dai marinai d'Italia. L'equipaggio era formato dal timoniere Manuel Rosi, dai vogatori Niccolò Sabatini, Tommaso Infetti, Adam Angeli e Jacopo Moriani, capitano Pietro Solari. Molto alla prima esperienza poi con arrivo del genere lì, lì, lì è stata una bella soddisfazione. Al secondo posto il rione Croce, terzo il rione Valle e quarto il rione Fortezza. Una folla numerosa assistito a tutta la gara e esultato con i vincitori che hanno concluso e festeggiato nel modo più classico con un tuffo nel mare della Costa d'Argento. Oggi veramente lo stadio del Turchese è completamente pieno. Onestamente è una cosa che mi conforta molto per riempire il cuore di gioia perché poi coinvolgere tante persone così per il palietto è una cosa che ci entusiasma e ci fa ben sperare, come ho già detto, per il futuro. Certamente il clima rispetto all'anno scorso, quest'anno è un pochettino più... No, il clima, diciamo, meteo, ma proprio il clima, la temperatura nostra dei rioni dei contradaiole è sicuramente più alta, c'è in palio la Coppa d'Oro quindi è una cosa molto importante per noi. Ricordiamo che se la Pinarella vincesse, vince la Coppa d'Oro. Sì, se la Pinarella vincesse, vince il terzo anno consecutivo di vittoria e quindi si aggiudica la sua prima Coppa d'Oro. Ed è per questo che proprio tutti i contradaiole, ma anche gli altri rioni che tenteranno sicuramente di impedire di vincere la Coppa d'Oro. Lo sgambetto è a te. Ma quello fa parte del gioco comunque, quindi fa parte proprio del colore nostro, della nostra energia del gioco, insomma. È una competizione e deve vincere il migliore, sicuramente sì. È una delle manifestazioni di carattere remiero, su buzzi con imbarcazioni con sedile fisso. È una delle più grandi, delle più lunghe e forse la più pesante che secondo me c'è in Italia perché se noi andiamo a vedere, anche a dare due dati tecnici, i nostri ragazzi remano su un buzzi che pesano 500 kg. Sono di legno, artigianali, non è niente di artificiale e quindi hanno il suo peso, il suo dislocamento. Loro poi altrettanto peso sono loro. Noi stiamo parlando di 10 quintali e questi ragazzi riescono a fare 4.000 metri nel record di 24 e 13 secondi. Più che rematori sono macchine da guerra. Torniamo nel territorio rettino ed esattamente a Quarata dove sabato scorso si è svolta l'edizione 2023 della Scorrida. Una manifestazione sempre davvero molto gettonata. Tantissimi infatti i presenti e quest'anno insomma una chicca in più oltre ovviamente ai concorrenti davvero molto simpatici ovvero la partecipazione di Santino Cherubini e degli avanzi di Valera. Ne sentiamo un piccolo estratto. Che è successo Francesco? Che è successo? Se fate un chiesto che non si sa, io ho la mia donna che mi dorme da tre giorni a casa. Che si fa qui? Era strano che potessimo andare in tisci almeno per un po'. Ma è giusto, ma dovete abbassare un pochino che tutta la sera che aveva toccato l'ireca, boom 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 boom. Aspetta perché se no questo è macerano. Io tutto il giorno ho scaricato un'altra quinta di legge. Avevano il diritto di risposta. Sì, certo che sì. Però allora... Abbiamo un problema, questo è evidente. Allora, senta, facciamo una cosa. Dato che lei è qua e mi sembra che abbia qualcosa da recriminare... Venga su un attimo, salga un attimo. Che vuole recriminare, qui sarebbe bene che fino ad ora c'è stata pace a Quarata. Per due anni ce l'ha loddata il coso del Covis. Ora del colpo è tornato la gente. Ma state a casa un pochino. E allora non perdetevi l'edizione integrale della scorrida che andrà in onda questa sera subito dopo il nostro telegiornale e poi anche nella serata di sabato 5 agosto a partire dalle 21. Siamo adesso invece allo sport. Lunedì 7 agosto saranno pubblicati i calendari della Serie C. Lo ha annunciato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, al termine del Consiglio federale che si è svolto oggi a Roma. Il campionato, ha detto, inizierà il 3 settembre con anticipi e posticipi, mentre il via della Coppa Italia di Serie C sarà fissato dopo l'inizio del campionato. Sono certo, ha detto ancora il presidente, che sarà una stagione ancora più bella di quella passata, con tanti giovani a cui parteciperà la vera Italia con la presenza di club in quasi tutte le regioni. Lunedì 7 agosto dunque è stato convocato il Consiglio direttivo che ufficializzerà la composizione dei gironi per l'Arezzo. La prima giornata si disputerà probabilmente nel fine settimana concomitante con la giostra del Saracino dedicata proprio al centenario a Maranto. Quindi, insomma, sarà quasi scontato che la squadra giocherà in anticipo proprio per evitare questa concomitanza. Adesso invece parliamo degli spogliatoi a Maranto. Ultimati i lavori nella pancia dello stadio comunale di Arezzo. Il nuovo spogliatoio della prima squadra cambia a volto in occasione della nuova stagione. È stata infatti realizzata una nuova pavimentazione, mentre le vecchie sedute e gli armadietti sono stati sostituiti da una nuova mobilia realizzata su misura. È appositamente griffata proprio con il logo del cavallino rampante da parte del Modul Group, azienda a cui la società a Maranto si è affidata per rendere maggiormente funzionale lo spazio dove lo staff e i calciatori vivranno appunto la vigilia e l'intervallo delle partite casalinghe. Parliamo ancora di calcio, ma questa volta dell'Arezzo Calcio Femminile conosciamo insieme il nuovo mister. In Italia la cosa che mi piace molto è che ogni partita è una lezione di tattica. È quello che mi piace molto, voglio allenare qui. Da tempo sognava l'Italia e adesso è arrivato ad Arezzo. Dopo due anni e mezzo con Emiliano Testini in panchina, la società a Maranto ha scelto Mike Rackles per ripartire. 33 anni, australiano-irlandese, parla 5 lingue e allenato in tre continenti, alternandosi tra calcio maschile, femminile e giovanile. È normale nel calcio che il primo anno in una nuova categoria ci sono delle difficoltà per tutte le squadre. Il progetto è ancora crescendo, lo sviluppiamo tutti i giorni, la società, il presidente. Quindi siamo in un'altra fase quest'anno, in un'altra fase del progetto. Speriamo che facciamo un buon lavoro. Per l'Arezzo calcio femminile si apre così un nuovo ciclo, dopo aver conquistato la Serie B e la salvezza nel torneo cadetto. Ha veramente grande entusiasmo e questo ha trasmesso immediatamente in me, ma anche lo sta facendo con il capitano, con lo staff e con la squadra. E sono sicuro che questo sarà un aspetto motivazionale da non sottovalutare. Quindi ha capacità tecniche, molto tattico perché studia molto bene tutti i materiali che ha a disposizione. Quindi le nostre partite conosceva già tutte le ragazze per nome, alcune non ricordavo io, lui sì. Quindi grande memoria e questo ci permetterà di ottenere sicuramente anche buoni risultati. La preparazione atletica dell'Arezzo calcio femminile comincerà lunedì ad indicatore in vista del campionato di Serie B. L'ambizione è quella di fare bene, di vincere, come sempre noi sportivi vogliamo sempre vincere. Quindi da qui parte questo nostro nuovo progetto molto importante, ambizioso e non vediamo l'ora di vincere. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio allora, non cambiate davvero il canale perché vi lascio con l'edizione 2023 della Scorrida. Un'edizione davvero scoppiettante, scoprirete anche chi avrà vinto tra i nove partecipanti. Davvero dilettanti allo sbaraglio molto molto simpatici, ma sarà un'edizione ancora più ricca perché vedrà sul palco salire Santino Cherubini e, non vi anticipo altro, gli avanzi di Balera. Grazie per l'ascolto, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.